e parte parte l'ora lan e via vai col tiro occhio ai cerchiati cerchiati sono isolato e te lo sbalzo chiare raggi bene sulla casa via dal soffio taglio dal soffio attenzione alla prenditura mettetele verso lasciate un po' di spazio bravissimi occhio allo sbalzo e c'è da schivare si valsa attenzione urla Rallovan ok passate Zerbino schivare 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 anche a raggi non incrociate attenti lasciamelo eh tardi portatelo pure un po' più in mezzo un pelino anche che sbalzo adesso allora i raggi vadano le poste e gli altri mica occhio anche questo guarda che non c'è assassino che penso che non è nota di supercento ho rifiutato il re a Sio se avete lessato l'ora ma vai no un po' più in mezzo grazie a tutti